Ho incontrato il presidente Berlusconi, come ho incontrato Luca Cordero di Montezemolo, come ho incontrato altre personalità politiche, non soltanto politiche, che erano presenti oggi a questa serata. Quanto al presidente Berlusconi, come voi ben sapete, ho avuto modo di incontrarlo tre anni fa in un celebre incontro per voi ad Arcore, oggi l'ho risalutato con cordialità. 20 minuti di colloquio in una sala del Teatro Reggio di Parma, dove ieri sera si celebravano i cento anni dalla nascita dell'imprenditore Pietro Barilla, lontani da telecamere Taccuini. 20 minuti di faccia a faccia tra il leader del centrodestra e l'aspirante leader del centrosinistra, in piena bagarre politica, con le incognite irrisolte di Quirinale e Palazzo Chigi, e dopo una giornata all'arma bianca nel PD, con bordate d'alzo zero sulle candidature per il Quirinale tra il rottamatore e lo stato maggiore del partito. 20 minuti che lasciano quindi spazio a ricostruzioni retroscena. Rischio calcolato per Renzi, che dopo qualche titubanza decide comunque di andare a Parma. Non vedo perché non sarei dovuto andare solo perché era presente Berlusconi, dice il sindaco di Firenze, che ricorda l'incontro precedente, tre anni fa, ad Arcore, che per i suoi detrattori nel PD pesa come un peccato originale, la prova dell'intelligenza col nemico o almeno di una sua naturale vicinanza caratteriale, se non anche politica. Solo cortesia nella conversazione, assicura Renzi. Non si è parlato di politica, nel senso che se Berlusconi ha questioni da affrontare le deve affrontare con Bersani e Bersani se vorrà le affronterà con Bersani. Io da questa dinamica sono fuori. Pare che Berlusconi lo abbia salutato con un come sei alto e che Renzi abbia risposto semplicemente un metro e ottantuno. Ma, battute a parte, è difficile credere che i due non abbiano parlato dell'impasse sul governo e soprattutto del Quirinale. Il rottamatore ha dichiarato il sostegno a Prodi, contro Prodi il Cavaliere fa le barricate. Ma proprio incrociando i veti e i non veti dei due si intravede la convergenza possibile sul nome di Amato. Movimenti da playmaker, quelli del sindaco di Firenze, che il quartiere generale del PD guarda con sospetto. E sicuramente con attenzione Berlusconi avrà studiato Renzi, che ha la dichiarata ambizione di attrarre al centro-sinistra i consensi del centro-destra. Renzi invita a risolvere comunque velocemente il rebus del governo. Per quello che mi riguarda, personalmente, io credo che l'importante sia fare presto. Se si va a votare che si decida subito, se si torna a votare, se si decide di fare un governo che si mettano d'accordo subito, se decidono di fare un governo tecnico di larghe intese, di scopo balneare, istituzionale, si mettano d'accordo subito. Qualsiasi cosa decidano Berlusconi e Bersani, o Grillo, o quelli che possono decidere, facciano presto. Berlusconi dice di aver fretta di tornare alle urne. Ho fatto sei sfide e le ho vinte tutte e sei. Gli aspiranti avversari sono avvisati.